Il PM Alessandro Lì aveva chiesto l'archiviazione per la tenuità del fatto. Alcuni legali della difesa avevano presentato opposizione all'archiviazione perché il procedimento venisse invece archiviato perché il fatto non sussiste e il Tribunale di Patti ha accolto la richiesta della difesa, archiviazione perché il fatto non sussiste. Così si è chiuso il caso relativo ai fatti accaduti a San Fratello il 10 maggio 2022. Titolare delle indagini era il sostituto procuratore della Repubblica di Patti Alessandro Lìa. L'accusa contestava 13 persone di aver partecipato ad una competizione ippica che non era stata autorizzata in occasione della festa dei tre santi, i santi patroni del centro montano, Alfio, Filadelfio e Cirino. Questa ipotetica gara, secondo il prospetto accusatorio, sarebbe stata portata a termine in un percorso piuttosto accidentato in condizioni di mettere in pericolo i cavalli. Furono indagate 13 persone, difese dagli avvocati Flavia Galbato Muscio, Alvaro Riolo, Alessandro Pruiti, Salvatore Ricca e Benedetto Ricciardi. A conclusione delle indagini, il PMLIA presentò richiesta di archiviazione per la tenuità del fatto. Gli avvocati Galbato Muscio e Riolo presentarono opposizione ritenendo invece che i fatti fossero insussistenti. Queste osservazioni, su quanto avvenne quel giorno a San Fratello, condivise anche dagli altri difensori degli indagati, hanno poi trovato conferma nell'ordinanza del GIP del Tribunale di Patti Ugo Domenico Molina. Per il giudice, all'esito delle indagini e delle verifiche, attraverso il materiale a disposizione infatti, non si era trattato di una corsa, ma di una manifestazione tradizionale che si svolge da decenni per l'occasione religiosa in un territorio oltretutto in cui il cavallo, il cavallo san fratellano, ha una valenza culturale, storica e anche economica. Durante la festa infatti si celebra il rito del corteo dei cavalli fino al santuario di Montevecchio, dedicato ai santi patroni di San Fratello. Nessuna competizione non autorizzata dunque, ma solo un'esibizione storica di cavalli. Grazie.